Ragazzi, avete difficoltà ad arrivare in divisione 1 o non ci siete mai arrivati anche se avete una squadra di ottimo livello? Per migliorare non servono gli epici, non servono i big time, servono le conoscenze, servono le abilità. Da oggi potete contattarmi per ricevere delle lezioni private di football personalizzate, dove vi insegnerò sia le nozioni base che quelle più avanzate, dove vi farò apprendere tutti i comandi nascosti di questo gioco, le funzioni sconosciute alla maggior parte dei player di medio livello e le skills che mi vedete fare nel mio road to glory. Tutto ciò vi permetterà di arrivare ad un buon livello e vi eviterà tante arrabbiature dovute alle delusioni che può dare questo gioco. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione, vi aspetto numerosi ragazzi. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2024. In questo nuovo video vi riporterò le nuove indiscrezioni, arrivate proprio ieri sera, sul nuovo gioco Konami, visto che ormai è in arrivo, mancano poche settimane, e Konami purtroppo continua a non dire niente, in maniera scandalosa, continua a non parlare, quantomeno ci penso io a riempire le vostre giornate con queste voci che provengono dai maggiori influencer mondiali. Il video non sarà molto lungo, in quanto le cose da dire non sono moltissime, però ritengo gli argomenti che tratteremo abbastanza interessanti. Quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Ragazzi, questa parte è fondamentale, non andate avanti senza aver prima lasciato l'iscrizione con la campanella attivata, ma soprattutto senza aver messo un bel like a questo video. Più like ci saranno, più contenuti informativi riporterò, quindi mi raccomando, se apprezzate il mio lavoro, non dimenticate di cliccare il tastino like. Come sempre vi chiedo anche di passare dalla descrizione, all'interno di quest'ultima troverete tantissimi link utili, come il mio Instagram, il mio profilo TikTok, o alcuni canali consigliati, ad esempio quello del buon Alebenni86. Ok ragazzi, non perdiamo ulteriore tempo, e andiamo subito a dare un occhio alle indiscrezioni fresche fresche di quest'oggi ragazzi. Veramente poca roba, non c'è molto da dire, come ho già detto, quindi il video sarà abbastanza corto, però comunque volevo riempirvi la giornata riportando le ultime voci, diciamo, sempre perché Konami non parla, Konami non dice nulla, probabilmente fino al giorno del rilascio non dirà niente, l'unica società al mondo a fare una cosa del genere è la società più strana e mal organizzata del pianeta, quindi purtroppo almeno devo fare qualcosa per riempire il canale, per riempirvi la giornata, e tra l'altro a molti di voi interessano questo tipo di indiscrezioni, quindi ritengo opportuno riportarvele. Io spero che voi in ogni caso, in un periodo di silenzio da parte di Konami, in un periodo piatto, totalmente, appreziate questo mio lavoro. Cominciamo subito andando a tradurre questo tweet di Renan Galvani, che dice, ho avuto informazioni che Konami sta recentemente cercando l'Inter Miami, l'attuale club di Lionel Messi, per una partnership. Questo è un mercato relativamente forte per Konami, cioè è buono, e dovrebbe appunto avere lo stadio, gli scan phase degli atleti, oltre a tutto il marketing con Messi come ambassador, eccetera, eccetera. Secondo me questo è molto probabile, perché comunque Messi è sempre stato a stretto contatto con i football, essendo appunto uno dei principali ambassador, quindi secondo me potrebbe starci come cosa. E non sarebbe male magari avere anche tutto il campionato americano, tutta la MLS, ma è difficile. Infatti un utente gli chiede, EA ha già inserito la MLS, o Konami può chiudere con loro? e Galvani risponde, andiamo a tradurre quello che ha detto qui, l'MLS, cioè la Serie A americana, è un'esclusiva di EA da alcuni anni. Quindi ragazzi, anche se Konami dovesse chiudere la partnership con l'Inter Miami di Messi, sarebbe solo con quella squadra. Difficilmente arriverà tutto il campionato americano, perché appunto ha l'esclusiva EA. Qui c'è un altro influencer, di cui riporteremo adesso altre indiscrezioni molto più interessanti, che comunque va a confermare quello che dice Renan Galvani, ecco che scrive, secondo le informazioni Galvani-Renan, Konami è di recente in contatto con l'Inter Miami, l'attuale club di Messi. Le stesse cose che abbiamo detto, confermate da quest'altro influencer. Influencer, come dicevo, che sei ore fa, nel momento in cui sto registrando questo video, sono le nove del mattino, poi ovviamente sarà più di sei ore fa, quando guarderete alle 13 questo contenuto. Dicevo comunque, questo influencer di cui parlavamo poco fa, Edilton Silva, è andato a pubblicare un tweet che mi ha fatto pensare, mi ha incuriosito. Chiaramente non c'è nessuna fonte in questo tweet, quindi semplicemente potrebbe essersi inventato il tutto, però quello che ci dice Edilton Silva è una leggenda che potrebbe tornare sui football 2024, è Roberto Baggio. Non so sinceramente, vabbè poi ha scritto altre cose che non ho ben capito, perché il traduttore dal portoghese alle volte è veramente incomprensibile, però non comprendo perché ha scritto questa cosa. Prendiamo tutto con le pinze, prendiamola come un'indiscrezione, chiaramente non è assolutamente certo, anche perché c'è su EA, quindi l'ipotesi sdoppiamento della licenza c'è, ma secondo me è improbabile, quindi come ho già detto, vi riporto questa indiscrezione, perché mi sembrava interessante riportarla, visto che proviene da Edilton Silva, che è comunque un influencer spesso retweetato da Galvani, ma mi sento di non dargli credito, cioè non crediamoci troppo, prendiamo tutto con le pinze, perché veramente non so da dove ha tirato fuori queste informazioni di Baggio. Ragazzi queste sono tutte le informazioni, anzi sono tutte le indiscrezioni di quest'oggi, come vi avevo già anticipato, si tratta di un contenuto molto corto, perché non c'è tanto da dire, ma spero comunque che abbiate apprezzato questo tipo di informazioni. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate, secondo voi c'è una possibilità per quanto riguarda la licenza del nuovo team di Messi, quindi Inter-Miami? Questa indiscrezione di Roberto Baggio, secondo voi, potrebbe essere con un fondo di verità, potrebbe essere veritiera, o è semplicemente una roba che si è inventato Edilton Silva, e potrebbe ovviamente anche essere così. Ditemi la vostra nei commenti, e fatemi sapere anche quale altre leggende, a parte questo fatto e l'indiscrezione di Baggio, vorresti avere sul nuovo gioco Konami. Mi raccomando, nei commenti numerosi. Come sempre vi ringrazio per essere stati mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto, la vostra SimoPlay. Bella ragazza!